buongiorno amici ve l'avevo promesso vi ho portato a cabianca avete visto il panorama attorno adesso vi porto a fare un giro con me qui per chi ci ha seguito nella diretta come sapete siamo a 7 chilometri da siena siamo circondati da una nottura silenziosa e siamo proprio nel mezzo del piano casolare una vecchia villa che è stata tutta ristrutturata e da cui hanno ricavato 13 camere qui sotto c'è un portico bellissimo dove ci si può riposare e bere un bel aperitivo la sera ovviamente bevendo anche un bel cocktail a bordo piscina e siena è la a 7 chilometri venite a vedere gli angolini del giardino sentite questo rumore eccolo qui uno dei tanti angolini di pace di cabianca qui ci siamo solo noi e le cicale ci vediamo amici alla prossima